Mi avete scritto in tantissimi, Fed mi fai il tutorial della rovesciata? Bene, questo è il giorno che aspettavi. Se anche tu sei un principiante e vuoi imparare questo gesto spettacolare, aspetta fino alla fine del video. Per iniziare, partiamo dalle basi. Primo esercizio, partiamo dai piedi. Proviamo a far finta di fare una rovesciata con le ginocchia. Carichiamo col sinistro e diamo il colpo con il destro. Adesso schiena a terra e proviamo a fare lo stesso esercizio, questa volta però, muovendo i piedi. Ci sei quasi, manca poco. Adesso prova lo stesso esercizio da in piedi, senza buttarti indietro con la schiena. Ci siamo, adesso sei pronto per fare la rovesciata come un vero professionista. Adesso prendi la palla, tirala su con le mani, prova il movimento e mi raccomando, occhio alla caduta. Stupisci i tuoi amici con questa super skill e non dimenticare di seguire Fed.